È destinata a cambiare volto Viale della Croce Rossa dopo che la Giunta Comunale ha dato il via libera al documento di indirizzo per la progettazione di un parcheggio multipiano da 200 posti nella via principale di accesso alla città. Un progetto che prevede pure un collegamento meccanizzato per salire da Via della Croce Rossa appunto alla zona dell'Università a San Basilio. Tre anni di lavori previsti e presto si andrà a gara, ma il parcheggio non sarà l'unica realizzazione perché il Comune intende al tempo stesso riqualificare l'area con del verde a ridosso della cinta muraria e delle rampe lungo il pendio per agevolare il collegamento con il centro storico. Su Viale della Croce Rossa si è molto parlato in questi anni del doposisma. Molte attività artigianali e commerciali vi hanno trovato nuova collocazione ma per il Comune in maniera abbastanza disordinata e per questo si vuole dare una sorta di disciplina dell'area. Il progetto del parcheggio punterà sulla sostenibilità ambientale, su elementi strutturali prefabbricati. L'amministrazione con questo progetto pensa a un parcheggio fruibile in tutte le ore, comprese quelle notturne con una sorveglianza adeguata per evitare problemi. Di 18.000 metri quadri è l'area interessata al progetto, parcheggio che si svilupperà in linea con la strada. 3 milioni di euro è invece la cifra prevista per realizzare l'opera. Per fare prima il Comune provvederà ad affidare insieme progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori. Inutile dire come l'opera sia molto importante e strategica, se ne parla da anni. Il centro è sempre più una giungla da questo punto di vista. I cantieri hanno ridotto gli spazi ma bisogna pure considerare che l'amministrazione a mano a mano che terminerà la ricostruzione punta a un centro storico sempre più pedonalizzato. Di cui l'urgenza di parcheggi di questo tipo. Inoltre dopo l'estate gli stalli in centro dovrebbero tornare a pagamento come più volte annunciato.